È il giorno del sopralluogo tecnico della Commissione di Vigilanza allo stadio Guido Angelini di Chieti per ampliare la capienza a 5.000 posti con l'apertura del settore distinti in vista della gara di domenica che vedrà i nero-verdi impegnati in casa contro la San Benedettese in una sfida al vertice tra la prima e la seconda in classifica per la Serie D. Il settore distinti, chiuso da quasi 20 anni, riporterebbe la capienza dello stadio Angelini a quota 4.999, come spiega l'assessore allo sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone. Ho convocato la Commissione di Pubblico Spettacolo per verificare la possibilità di ampliare la capienza del nostro stadio Angelini portandola dagli attuali 3.999 posti a 4.999 perché riteniamo che l'entusiasmo che sta avvolgendo la squadra di calcio e i progetti della nuova società ci consentano di poter puntare a questo ampliamento ma soprattutto, oltre che per un motivo di più ampia fruibilità dello stadio, è un obiettivo che come amministrazione ci teniamo a cogliere. Abbiamo praticamente nella giornata di ieri ricevuto dal Chieti FC il progetto e un secondo dopo abbiamo convocato la Commissione in data odierna proprio perché tale necessità richiedeva una celerità d'azione che è quella che ci contraddistingue e che contraddistingue il nostro operato. Un altro impianto sportivo che puntiamo a ottimizzare e ad ampliare, non soltanto nella capienza ma anche a renderlo sempre più accogliente per i nostri concittadini e per i tifosi della nostra squadra di calcio cittadina. Che tempi ci vorranno per arrivare alla decisione? Se oggi dovessimo varare un parere favorevole, subito dopo ci sarà l'autorizzazione dirigenziale che richiamerà il verbale dell'odierna Commissione e quindi se così fosse già da questa domenica potrebbe esserci la capienza adeguata a 4.999. La società Chieti FC si impegna intanto a effettuare una serie di lavori per garantire i servizi igienici nel settore distinti e un piano sicurezza con vie di fuga per le emergenze. A parlarne al Tg8 è il presidente Gianni Di Labbio. Quando siamo arrivati il numero autorizzato per la capienza dello Stati erano 3.999 persone suddivise in diversi settori. Oggi noi stiamo facendo tutta una serie di lavori e abbiamo proposto con questo progetto di andare a sanare alcune problematiche che riguardavano lo stadio. Riteniamo che in tempi molto brevi riusciremo ad aprire anche i distinti, però oggi in Commissione tenteremo le due strade, sia quella di portare la capienza a 5 pilaposti anche per i tre settori già fin qui utilizzati, quindi amplieremo il numero dei posti della zona degli ospiti, amplieremo il numero dei posti nella tribuna centrale e alla curva Volpi. Comunque i lavori proseguono incessantemente per far sì che questo stadio possa contenere poi nei prossimi giorni fino a 7.500 persone. Ce n'è bisogno perché il Cammino del Chieti è forte in questo campionato di Serie D, quindi gli auspici sono i migliori? Sì, ce n'è bisogno perché noi stiamo attuando tutta una serie di attività che stanno avvicinando allo stadio intere famiglie. Questo era il nostro obiettivo e devo dire che la domenica qui a Chieti sta diventando una festa, una festa della famiglia. Vista la presenza di bambini, vista la presenza di tantissime donne, anche i tifosi hanno un comportamento diverso e questo è veramente una cosa molto bella.